Ah ma, perché vuoi dirmelo sul tappeto elastico? Perché questo programma è ancora più adatto al tuo incredibile talento! Si chiama L'Ultimo Pasticcere! È una sfida di pasticceria estrema! Oh! Cosa? Stai scherzando, vero? No, è su internet! È uno di quei programmi in cui vieni sparata in aria da un cannone e devi aggrapparti a una corda scivolosa sopra ad una fossa piena di alligatori per suonare la campanella! Solo che qui si cucina! E non ci sono alligatori! Non è detto! Stacey, è un'autentica follia! Intanto, quello è uno di quei programmi per persone che sono molto coordinate! Crema solare in arrivo! Wow! Ha parlato? Quella che sa fare 17 cose contemporaneamente! In fondo, perché no? Oh! Oglio! Avrei voluto partecipare io, ma chi voglio prendere in giro? No, sei tu l'artista della famiglia in cucina! Sei fatta per queste cose, Barbie! Ehi, quando ha ragione, ha ragione! E dato che tu sarai una sfidante, potrei avere un coach in panchina e quella sarò io! Sì, sì! Tu sei nata, coach! Noi potremmo vincere! Eh? Oh! Oh! Ah! Niente attrezzature elettriche, caro! Ciao, ragazze! Ciao! Hola! Non riesco ancora a credere che vedremo un film nel parco mentre ci divertiamo sul campo! Vero? Sono così elettrizzata! Non avrei nient'altro di meglio da fare! Ehi, quindi cos'era quel messaggio con 18 milioni di punti esclamativi su Skipper che fa la Babysitter? Ciao, ragazze! Di quale messaggio parlavate? Beh, ecco! Dovevo condividere la grande notizia con i punti esclamativi, che erano solo 5, e informarle che sei alla tua prima esperienza come Babysitter! Cosa? Skipper? Babysitter? Già! Non lo trovate grandioso? È una cosa impensabilmente forte! Grazie! Sono pronta a iniziare! Sì! Ecco mia sorella! Calma, distaccata e controllata! Possiamo andare? Ho già scelto un punto pazzesco dove parcheggiare! Pronte via! Andiamo! Ciao, Skipper! Ciao, Barbie! Lei è la piccola Bongo! Oh! Questa bella cucciolotta è così tenera! Beh, grazie! Penso che ti darà parecchio da fare insieme a questo mito! È un vero terremoto! Ah! Ma guarda un po' qua! Ce ne sono due! Ho detto a tua madre che si sarebbe aggiunto anche Johnny! O forse no! Beh, ad ogni modo, ci sentiamo più tardi! Divertiti al parco! Non volevo andare via, ma Skipper non mi chiedeva di restare! Che cosa potevo fare? Non volevo farla sentire incapace, ma... Diciamo soltanto che non avevo un buon presentimento su di loro! Era una giornata fantastica, Malibu, di quelle che non potrebbero iniziare meglio! Ups! Colpa mia! E poi vanno ancora meglio! Non posso crederci! Non fa niente! Non avevamo bisogno di quella canzone per divertirci! No, il disco non c'entra! DJ Chipshot si è slogato il polso mentre faceva qualche scratch di troppo! Sapete? Il DJ a cui apro sempre le serate! Vuole che lo sostituisca il Fonfling! Wow! Il Fonfling! Il gigantesco festival di musica nel deserto! Quello con migliaia e migliaia e migliaia di persone! Daisy, stai per esibirti per più di tutti gli abitanti di Malibu! Ok! Ho capito! C'è tanta gente! Magnifico! Come si fa a fischiare come fanno i tifosi? Vorrei tanto saperlo fare! Daisy, è strepitoso, vero? È il tuo sogno! E finalmente potrò dire che ti conosco da quando ho! Questo è il quarto! Creerò per te un look pazzesco! Qualcosa di vistoso, ma non accecante! Ok, forse anche accecante! Io farò quella che si tuffa dal palco! Attenzione di sotto! Ciao! Sapete questo cosa vuol dire? Si parte! Si parte! Woohoo! Con il camper di Barbie! Sì! Niente di meglio del camper dei sogni! Woohoo! Sì! In casa regnava la pace quando... Posto in arrivo! E vai! Oh! Oh! È arrivata la mia palla da discoteca luminosa! No, ma... Se stai cercando qualcosa di veramente strano, c'è questa busta con un robot gigante sopra! Hai detto un robot! C'è una busta con sopra un robot! Ehm... Sì, sembra un robot! Tieni, guarda tu stessa! Non ci credo! C'è davvero un robot lì dentro? Ma no! È solo una lettera per dirmi che il mio progetto è in finale per il Congresso Nazionale di Robotica! State a sentire! La società Roboticon è orgogliosa di comunicarle la sua gradita partecipazione alle finali di Robotica che si terranno nel prossimo weekend! Oh, tesoro! È semplicemente meraviglioso! Cosa significa esattamente? Significa che il mio progetto di scienze potrebbe trasformarsi in un vero e proprio robot durante il congresso robotico più importante del paese che si terrà questo weekend! Questo? Weekend? Eh, sapete una cosa? Non è che poi mi piacciono così tanto questi vecchi robot? Fino a poco fa saltavi di gioia quando hai aperto quella lettera! Sì, ma voglio dire, non è che la robotica salverà il mondo o cose del genere! Certo, a meno che tu non voglia esplorare nuovi pianeti o... O salvare la vita con un intervento di chirurgia robotica! Non mi perderò il vostro ventesimo anniversario! Se no, chi organizzerà tutto e chi si occuperà degli addobbi e... Pronto? Posso pensarci io! Quanto sarà complicato organizzare una di queste due festicciole! Facciamo in modo che la fatina dei tetti venga a trovarla e che questa sia per Chelsea un'esperienza indimenticabile! Riconosci quello sguardo? Ogni resistenza è inutile! Conta su di noi! Bene, allora... Chi è che ha un pinguino in casa? Ok, quindi nessuno ha un pinguino? Non c'è problema! Faremo in modo che si percepisca la presenza del dottore Ernesto! Come? Forse facendo il tipico verso del pinguino delle rocce? Tipo... Meglio uno che sembri meno strozzato, ma ci siamo quasi! Ok, ora passiamo agli altri dettagli, tipo i petali di rosa e la musica del flauto fatato! Ok! Ragazze, qui ci vuole il grido di famiglia! Al tre! Uno, due, tre! Woohoo! Questo va bene! Guarda! La stanza è piena di petali rosa Sul serio? Wow! E ce ne sono anche di sotto Li avrà lasciati cadere la fatina dei tetti Wow! Può darsi! Ciao! Hola! Bonjour! E ni hao! Benvenuti nella nostra nuova casa! Nel caso vi foste appena sintonizzati, io sono Barbie Roberts E sono così emozionata che non so neanche da che parte cominciare E se cominciassi da qualche scatolone? Ops! Scusate! Perché no? So fare molte cose contemporaneamente Lui è Ken, migliore amico nonché vicino di casa da sempre Dall'ultima volta che hai traslocato? Sì, da quando siamo venuti a Malibu E oggi, quasi dieci anni dopo, la mia famiglia si trasferisce finalmente nella nostra nuova casa dei sogni Che è esattamente sullo stesso terreno della nostra vecchia casa Su un antico cimitero di pirati Stacey, nessun fantasma con una gamba di legno qui Ma, ed è interessante, tutti abbiamo contribuito alla progettazione La mia stanza è la più bella! Avete sentito bene? La stanza di Skipper e Stacey è la più bella di tutte Ma aspettate di vedere la mia stanza Non abbiamo molto tempo, ecco il piano Prima laviamo la casa, poi la rimettiamo al suo posto e dopo iniziamo a lavorare Nicky ha già qualche idea, Teresa ci aiuterà per quanto riguarda la parte tecnica Sentiamo Nicky Ok, dunque ho pensato a qualche tema La nave dei pirati La stazione Chuf Chuf Questa mi piace Oh, dato che sappiamo tutti quanto Chelsea sia golosa di cupcake No, così è troppo Sì, è davvero un po' troppo Già, è vero, scusate Sono tutte idee bellissime, Nicky Dico sul serio, ma serve qualcosa di diverso Qualcosa che sia in sintonia con Chelsea Ecco, forse mi è venuta un'idea Fantastico, spara! Dunque, se spostassimo questi più in là e aggiungessimo questo qui sotto Hai capito la mia idea? Ah, ma certo E se mettessimo qui una cosa di questo tipo? Sì, è perfetta! Tu riesci a leggermi nel pensiero La adoro È fenomenale! Magnifica! Perfetto! Allora, io, Nicky e Teresa puliremo e prepareremo la casetta Stacy e Skipper, voi dovreste occuparvi di Chelsea quando ritornerà Potete organizzare qualcosa che la distraga per un po' Agli ordini! Che l'operazione Sorprendere Chelsea abbia inizio! Oh! 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 Potte gosto! Grazie.